ciao a tutti e benvenuti alla casa del nerd oggi mi è arrivato un box con dentro un po' di giocattoli action figure poi alla fine del video vi metterò la foto con tutto ciò che è arrivato oggi con tutto quello che avevo ancora per creare un lotto un po più grande però ho preso delle action figure in particolare e ho deciso di farci un piccolo video intanto per descriverle partiamo subito con un piccolo red ranger che mi è arrivato ma sembra che però il braccetto sia un po ecco posto red ranger saban prima serie quello classico è tenuto bene non mi posso non mi posso lamentare bello tenuto ancora bene certo ogni tanto le braccia potevano saltare via per le giunture perché erano semplicemente clip però ancora a posto non piego le gambe perché secondo me avendo già avuto l'esperienza di altre action figure di questo tipo se non vengono mosse per tanti anni piegandole la plastica si spezza e questo è uno che mettiamo via poi con cosa andiamo avanti ma si prendiamo nightwing dalla serie new adventure eccolo qua nightwing quasi completo perché c'è il suo mezzo mancano solo i suoi missili tra l'altro il mezzo si potevano togliere le ali e inserire al personaggio da dietro ecco qua e quindi quasi completo mancano solo proprio i missili che dovevano essere verdi in teoria e questo è un altro piccolo bell'arrivo che non mi dispiace per niente poi andiamo a vedere cosa si può guardare parliamo di questo dalla serie batman beyond batman of the future con le ali che si aprono si chiudono il suo missile a si aprivano così a scatto le ali ecco perfetto anche questo probabilmente manca l'arma però in sé praticamente completo e va bene molto bello anche questo poi passiamo a superman della serie animata questo superman mi piace ho avuto solo la sfortuna di trovare è quello che li si poteva cambiare farlo diventare clarkent c'è praticamente tutto tranne che l'altra gamba che la gamba è sinistra perché c'è la parte del corpo c'è lo zaino per chiudere dietro il mantello e nasconderlo la testa va ancora all'interno benissimo e c'è anche la gamba quindi è pressoché quasi completo manca una gamba volendo uno potrebbe anche utilizzarlo solo con questo e mettendo dietro il mantello nello zainetto sembrerebbe che ai pantaloni blu però sicuramente più bello se qualcuno riesce a recuperare anche questa gamba poi tutto quello che vedete sarà sicuramente messo in vendita posterò il il post su marketplace e adesso andiamo a vedere con eccolo qua mister freeze a lui è praticamente completo manca solo la pistola c'è il personaggio lo sportellino sul petto si apre andiamo se riesco ad aprirvelo perché l'ho aperto prima ma non mi ricordo più si si apre qua poteva tenere la pistola la testa si stacca e può essere messa su un sul suo ragno e te e quindi questo anche praticamente completo le zampe del ragno si muovono ancora bene sostengono bene ancora il tutto e anche questo verrà messo poi in vendita adesso invece rifarlo di questa action figure che non pensavo di trovare completa invece quella che ha proprio tutto 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 la vedete lì è batman beyond the batman of the future con il suo mantello il mantello si poteva attaccare alle braccia e ancora tutti i gancetti per attaccarlo ci sono i due razzi per poterlo attaccare i piedi quindi anche questi ci sono perché lui aveva i razzi che per volare e ci sono le sue due armi il batarang che si attacca a questa altra arma si può staccare quindi la può prendere anche in mano e questo è totalmente completo e anche questo andrà andrà in vendita poi nel post vi farò sapere i prezzi se qualcuno vuole sapere i prezzi mi può scrivere alla mail che metteremo poi sotto il video e niente intanto io vi ringrazio di tutto e vi saluto ciao a tutti